Arriva il cross di Luis Alberto, colpo di testa e arriva il gol del 3-2 e la Lazio con De Vrij e trova lo stacco giusto per battere Brignoli, lasciato colpevolmente libero in area piccola e con freddezza l'olandese trova l'angolo giusto, 3-2 Lazio in rimonta, secondo gol in campionato per Stefan De Vrij è crollata la resistenza dei Sanniti, qui De Vrij perso da Costa, non ha più trovato il contatto con l'olandese non esce Brignoli su questa traiettoria beffarda